Buongiorno e benvenuti alla nuova edizione di 30 minuti 30, oggi martedì 26 aprile, ieri come sapete non siamo andati in onda per via delle celebrazioni del 25 aprile, giornata festiva, iniziamo con la lettura dei quotidiani di oggi per poi passare agli approfondimenti delle notizie. Iniziamo con la stampa, truppe italiane per proteggere l'ONU a Tripoli, si degliusa la richiesta di Renzi, NATO rafforzata nel Mediterraneo, in corso, anzi ormai sta terminando il G5 a Nover in Germania, partecipa il primo ministro inglese, il presidente statunitense Barack Obama, Angela Merkel, Matteo Renzi e basta. Nel G5 ci sono state prese alcune decisioni, poi le vedremo dopo nel maggior dettaglio, tra cui l'impiego di truppe e di mezzi militari in Libia, a sostegno del governo di Serrai, il governo riconosciuto dall'ONU e tra questi ci saranno presenti anche delle truppe italiane. Poi oltre alla notizia dello scrittetto a Juventus, 25 aprile la reazione di Mattarella, il capo dello Stato in Valsesi, sempre tempo di resistenza, ovviamente apertura piemontese per il quotidiano torinese, la stampa. Corriere della Sera, Libia all'Italia offre 900 soldati, richiesta di aiuto del premio Serrai, Renzi, siamo sensibili, sostegno dal G5 e questo appunto esercita i carabinieri, proteggeranno i siti a rischio e adestreranno i militari locali. La richiesta infatti del governo libico è quella di proteggere in particolare i pozzi pretoliferi che sono contesi e estremamente agognati ovviamente per ragioni economiche dallo Stato islamico che come sapete è stato respinto da Tripoli, Libia, però non è stato del tutto respinto dal paese vicino al nostro. Bertolaso avrebbe rinunciato, Forza Italia ha detto di no, il candidato ero disposto a patti con Marchini, questa è un'intervista del Corriere della Sera, ormai quasi l'ex candidato di Forza Italia per le comunali a Roma, centrodestra che come sappiamo rischiava di andare diviso, ma insomma comunque non ne usce bene da questa lacerazione preelezioni. Andiamo avanti con Repubblica, la Libia chiede aiuto all'ONU, Obama, migranti, basta muri, Renzi al G5, pronti a dare una mano a Tripoli, più soldati USA contro lo Stato islamico in Siria e poi ancora una fotografia degli spogliatoi della Juventus. Tre punti per l'intesa tra troghe e governo, entro l'estate della legge sulla prescrizione, un'interessante intervista al Ministro della Giustizia Orlando, non so se riusciremo a vederla in call della trasmissione, se no vi consiglio di leggerla. a proposito del rapporto delicato tra magistratura e politica, un'intervista che butta acqua sul fuoco, delle polemiche dei giorni scorsi dopo l'assai discussa e anzi anche assai discutibile intervista al neopresidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, Pier Carlo Davigo. Dal voto di Viena un messaggio all'Europa, l'editoriale di Repubblica sul voto austriaco, come sapete ha vinto domenica alle elezioni presidenziali il candidato del FPU, che è il partito antimigranti di destra, di destra estrema, una grande preoccupazione, in realtà non ha vinto in via definitiva, andrà al ballottaggio col candidato verde, su cui si spera riusciranno a confluire i voti di tutti coloro che non vogliono che l'Austria si ritrovi dopo 60 anni con un Presidente della Repubblica di estrema destra, quindi un voto estremamente preoccupante che infatti sta facendo discutere l'Europa. Roma, Berlino, asse antisbarchi, così il messaggero, vertice di Hannover, Merkel più vicino al piano di Renzi per riportare i migranti in Libia, il Premier Serrai all'Unione Europea, proteggetti i Puzzi, l'Italia pronta a inviare reparti speciali. Poi il messaggero apre sulla vicenda di Regeni, ne parleremo dopo, pugno duro in Egitto, retratto di giornalisti per notizie su Regeni, protesta al Cairo, lacrimogeni e arresti, conduttrice TV, il ragazzo va dall'inferno. Questo è il clima che si respira in Egitto, dove i nodi al pettine di una gestione raffazzonata e criminosa anche della vicenda di Giulio Regeni stanno venendo fuori uno per uno. Ieri ci sono state delle manifestazioni in Cairo, ci sono stati anche degli arresti, è polemica con la Reuters che ha dato notizie sulla vicenda di Regeni la settimana scorsa, insomma c'è una stretta del governo estremamente pericolosa e estremamente discutibile. Andiamo avanti con la lettura dei quotidiani, il giornale pronti alla guerra in Libia, un passo dall'intervento, vabbè esasperata come al solito l'apertura del giornale, sembra che dobbiamo andare in guerra mondiale, l'unità, yes we can, USA e mondo hanno bisogno di un'Europa unita, forte e senza muri, è l'appello di Obama. Dal vertice G5 di Hannover sostegna il governo di Tripoli e mezzi NATO contro gli schiavisti, questa è l'unità appunto. È sempre l'esistenza ma i soliti violenti macchie alla festa, questa è la fotografia di apertura dell'unità, il riferimento sono alle polemiche per le contestazioni della brigata ebraica e della delegazione del Partito Democratico ai festeggiamenti del 25 aprile a Milano, una brutta pagina, poi la vedremo dopo, un giorno di festa per ricordare la liberazione dall'Italia con quegli ideali della resistenza italiana, gli ideali di libertà, di tolleranza religiosa, di tolleranza politica, macchiati da chi ha voluto cacciare la delegazione della brigata ebraica che fu una delle brigate che partecipò alla liberazione dell'Italia nel 45, era una brigata appunto composta da ebrei provenienti da tutti i paesi del mondo ma in particolare dalla neonata israele e quindi lo hanno ricordato, sono sfilati ma tra mille polemiche dai soliti contestatori che non vogliono battire israeliane alla manifestazione del 25 aprile. Avvenire il quotidiano cattolico, Tripoli chiede aiuto contro il Daesh, è pronto un contingente, al vertice di A9 Robama boccia le barriere per fermare i migranti, stivali nella sabbia, questo è il titolo, missione in due fasi in Libia con 300 nostri soldati, l'Austria va a destra, dai grandi in no ai muri, il numero dei soldati sembra abbastanza indefinito perché appunto Avvenire parla di 300, mentre abbiamo visto che il Corriere parla di 900 uomini, memoria lunga, questa è l'apertura del manifesto, l'Italia celebra la liberazione, migliaia di persone in piazza, bella la fotografia con la bandiera dell'Ampi contro l'Europa dei muri, i fascismi vecchi e nuovi e aggiungerei io anche i fascismi di chi fischia la brigata ebraica. Liberiamoci dall'Europa, così Libero, intervista Marine Le Pen, la leader del front nazionale, all'indomani della vittoria della destra in Austria, il referendum inglese per la Brexit, aprirà la strada a tutti per l'uscita, costruire i muri come fa Viena un atto di democrazia, così appunto l'intervista all'isponente della destra francese fatta da Libero. Concludiamo col fatto del quotidiano, così ingrassano Mediaset con spot e soldi pubblici e nelle poste tutti preferiscono Biscione, un aiutino anche dal Premier, questa è una sorta di inchiesta del fatto del quotidiano sulle entrate pubblicitarie di Mediaset. Ma iniziamo con la notizia delle manifestazioni di ieri, ieri appunto il 25 aprile, giornata di ricordo del 25 aprile 1945, quando come sappiamo alcune importanti città italiane, tra cui Milano, Genova, Torino e via dicendo, furono liberate dai nazifascisti, liberazione in alcuni casi fatta dagli alleati, in altri casi fatta dai partigiani, comunque insomma è un ruolo della guerra partigiana di chi 71 anni fa seppe dire di no, prese le armi e combatte per la libertà di tutti noi. E le manifestazioni si sono svolte ovviamente in tutta Italia, vediamo Repubblica, insomma 25 aprile, Mattarella è sempre tempo di resistenza, un filo lega liberazione, referendum del 46, il Presidente della Repubblica Correnzi all'altare della Patria, manifestazioni in musei aperti in tutta Italia, attacca Di Salvini alle istituzioni, ipocriti, tensione a Milano al passaggio della Brigata Ebraica, appunto quello di cui vi ho parlato, Valente allontanato dal corte a Napoli, Toti, Presidente della Liguria, della Regione Liguria, fischiata a Genova per aver ricordato i Marò, da Milano l'appello di Giussi Nicolini, l'accoglienza costruisce la pace. Ma vediamo in questo breve video cosa è successo ieri a Milano, appunto dove gli esponenti della Brigata Ebraica sono stati ignobilmente fischiati dai contestatori, ovviamente contestatori di estrema sinistra, che come al solito confondono quella che dovrebbe essere una manifestazione di grande laicità, di tolleranza, di apertura alle differenze politiche e religiose, quale dovrebbe essere appunto il 25 aprile con una manifestazione di estrema sinistra che nulla c'entra con quegli ideali di resistenza. Gli fischi sono al carro che portava gli esponenti del Partito Democratico e poi alla cosiddetta delegazione della Brigata Ebraica, che è la brigata che nel 1945 si unì agli alleati, composta quasi esclusivamente da ebrei provenienti da Israele, si unì agli alleati e liberò l'Italia, in alcune zone fu particolarmente efficace, ad esempio nel Ravennate dove appunto fu protagonista della liberazione della città nel 1945, insomma una brutta pagina del ricordo di una bella pagina della storia invece. Ma veniamo a quella che era la notizia del giorno, vertice del G5 ad Hannover, così apre Repubblica, Libia così il pieno anno per l'intervento italiano, asserrà il sostegno del G5, pronta anche la Francia, migranti, Obama e i muri non servono a nulla e poi appunto invece il Corriere della Sera, è cambiata la prima pagina, scusate, sulla questione, Libia e anche l'Italia è pronta a mandare soldati, ma nessuna decisione è presa, questo appunto la notizia sul vertice dei 5 leader atlantici, a Hannover super blindato, ovviamente il vertice, un vertice dove si è discusso della sicurezza internazionale, della Libia, appunto della vicenda libica del fatto che sia ormai ineludibile mandare dei militari a sostegno del governo riconosciuto nelle Nazioni Unite, il governo di Serrai che appunto è riuscito a riprendere, a riconquistare la capitale Tripoli e a cui ha affidato l'oggettivo compito di, l'importante compito di allontanare del tutto le forze dello Stato Islamico dalla Libia, riprendendosi quindi anche i pozzi petroliferi e peraltro per noi italiani la Libia è un territorio estremamente delicato perché come sappiamo molti dei migranti, molti dei barconi, dei migranti che arrivano in Sicilia o che purtroppo come è successo la scorsa settimana finiscono affondati nelle acque del Mediterraneo, partono proprio dalla Libia che è da questo punto di vista un colabrodo e quindi per noi è importante mantenere un rapporto stretto con quel paese e magari anche l'invio dei nostri militari in Libia è dovuto anche a questo. Vediamo questo servizio della Sette sulla richiesta della Libia proprio per un contingente militare degli alleati. Aiutateci a proteggere i pozzi petroliferi. In attesa di ricevere l'investitura ufficiale dal Parlamento di Tobruk, il governo libico di unità nazionale ha rotto gli indugi chiedendo alla comunità internazionale il supporto necessario a prevenire il rischio concreto di attacchi terroristici contro i terminal del petrolio. Serraj ha poi invitato i paesi vicini della Libia ad intensificare la cooperazione con Tripoli per sventare questi attacchi e fermare il flusso di foreign fighters che in Libia si uniscono ai miliziani dell'ISIS. Proprio due giorni fa l'autoproclamato Stato islamico ha lanciato una nuova offensiva nei pressi dei pozzi di Brega, in Cirenaica, e l'appello del premier Serraj assume una valenza doppiamente rilevante se si vuol dar credito alle anticipazioni apparse ieri sul Daily Mail. Secondo il tabloid britannico, le forze speciali inglesi si preparano a lanciare entro alcune settimane un attacco contro l'ISIS in Libia e si uniranno a quelle francesi e americane. Da parte sua il presidente del Consiglio Renzi, che prima del vertice di Annofora ha parlato al telefono con Serraj al termine dei lavori, ha ribadito che Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia hanno espresso sostegno unanime al lavoro di Serraj, spiegato che che bisogna fare di tutto perché abbia successo. L'inviato delle Nazioni Unite per la Libia ha invece provato a dare uno scossone al Parlamento di Tobruk e ha in pratica dato un ultimatum dichiarando che il Parlamento libico ha dieci giorni di tempo per dare la propria fiducia all'esecutivo Serraj. Martin Kobler ha minacciato di dar corpo all'ipotesi di sanzioni internazionali contro personalità ed entità libiche che impediscono al Parlamento di esprimere fiducia al governo. Così appunto la situazione in Libia, questa è la richiesta del governo libico, ci vediamo dopo la pausa pubblicitaria per andare avanti con le altre notizie. Ben tornati alla seconda parte di 30 minuti 30, abbiamo visto la situazione in Libia, ieri al vertice del G5, oltre che del Libia si è parlato anche della questione dei migranti, è stata affrontata la questione dell'Austria, abbiamo, non so se appunto siete informati, ma il sabato ha vinto il primo turno per le elezioni presidenziali austriache, un esponente dell'estrema destra, c'è grande preoccupazione anche per la vicenda del cosiddetto muro del Brenner, appunto quella separazione netta che rischia di mandare in frantumi uno dei trattati storici dell'Europa Unita che è il trattato di Schengen, quello della libera circolazione di persone e merci attraverso gli paesi dell'Unione Europea e appunto la preoccupazione per quel muro ha spinto Obama a dire parole molto chiare, Europa si è unita, i muri non servono, così appunto il Presidente americano e su questa questione del Brenner, tra l'altro è intervenuto anche il Presidente del Consiglio, lo ascoltiamo in questa brevissima dichiarazione. Abbiamo fatto una proposta articolata, come sapete, il Migration Compact, è un'operazione credo che abbia un grande senso, è un grande investimento in Africa, è anche la risposta a chi dice, ma voi dovete fare progetti non sporadici, ma progetti di medio periodo per l'Europa, lo abbiamo fatto sull'economia, lo stiamo facendo sull'immigrazione, non dimentichiamo che il progetto più significativo che l'Italia ha fatto è quello sulla cultura, un Euro in cultura, un Euro in sicurezza, che è una rivoluzione per il modo di concepire tradizionalmente la sicurezza degli europei, quindi stiamo lavorando su questo orizzonte di medio periodo. La questione del Brenner è molto semplice, non c'è alcun elemento, alcuno che giustifichi la chiusura del Brenner, punto. E quindi noi pensiamo che le autorità austriache non potranno fare altro che rispettare la normativa europea e che se questo non fosse saranno le situazioni europee a prendere le conseguenze necessarie. Perché il Brenner è un simbolo, perché il Brenner è uno strumento, un luogo di lavoro per tante donne e uomini, la Germania, l'Austria e soprattutto il nord-est italiano sono collegatissimi. In alcuni aspetti potremmo parlare di un unicum economico come area regione tra la zona della Germania meridionale, l'Austria e il nord-est italiano. Se ci fate caso ci sono delle realtà, delle filiere intere che lavorano insieme. E quindi il Brenner è uno strumento, è un luogo di transito. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi su questa questione dell'Austria, appunto la preoccupazione per questa chiusura delle frontiere con l'Austria e appunto la preoccupazione più grossa resta questa sorta di spada di Damocle bene e propria sull'Europa per la possibile elezione, paventata elezione di questo candidato Presidente dell'estrema destra in Austria che ha vinto il primo turno. Dall'altra parte c'è il candidato dei Verdi su cui si spera appunto riescano a coalizzare le forze più moderate e lui è un esponente appunto dell'FPU che è un partito anti-immigrazione e anti-Europa. Vediamo questo servizio di Euronews che fa un po' il punto della situazione sulla questione austriaca che sta preoccupando tutta l'Europa e che ha preso anche l'attenzione per il candidato di Werner Feynman uno schiaffo, per l'estrema destra europea un balsamo. Salutato entusiasticamente anche da Matteo Salvini, il trionfo del candidato del partito anti-europeista e anti-immigrati al primo turno delle presidenziali austriache esclude dalla corsa i partiti di governo per la prima volta dalla seconda guerra mondiale. Per ora ufficialmente sostenuto solo dai Verdi che dirigeva ad affrontarlo al secondo turno del 22 maggio ci sarà Alexander van der Bell, candidato indipendente, condannato però dai numeri a scontare uno stacco di oltre 15 punti percentuali. Feynman ha detto che lo appoggerà a titolo personale ma senza dare una vera indicazione di voto. Al cancelliere austriaco il 35% incassato dalla destra nazionalista di Noa Batufa sta peraltro dando ben altri grattacapi. Soprattutto l'ala giovanile del suo SPE parla di partito delegittimato e ne chiede la testa. Lui al momento replica facendo quadrato con il vice il cancelliere Mitterlena ed esclude qualsiasi rimpasto di governo. Dalla Francia alla leader del Front Nazionale Marine Le Pen che ha parlato di risultato eccezionale ha fatto intanto eco su Twitter la nipote Marion. Tre prime a complimentarsi è poi stato Ger Wilders che già alla chiusura dei seggi celebrava come fantastico il risultato di Ofa. Trionfo invece il commento affidato a Twitter da Matteo Salvini mentre la leader di Alternativa per la Germania ha scritto che questo è solo un antipasto del cambiamento che avverrà. Questo appunto il trionfo del partito anti-immigrazione, anti-Europa, anti-tutto in Austria è una data estremamente pericolosa, una data populista e a proposito di populismi, a proposito di nazionalismi, a proposito di politiche anti-Europa e anti-immigrati il nostro... ieri c'è stato uno scontro titanico negli Stati Uniti, un incontro memorabile tra due grandi cervelli Matteo Salvini e Donald Trump si sono incontrati ieri negli Stati Uniti, ovviamente era ironica la mia battuta, lo troviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, Trump vede Salvini, sarà il Premier, questo è l'augurio, se così si può dire, è uno sguardo di terrore arrivò sui nostri volti, l'augurio di Donald Trump e Matteo Salvini, faccia a faccia di 20 minuti a Filadelfia, identità di vedute sulle politiche di contenimento dell'immigrazione e poi l'augurio del candidato repubblicano al leader della Lega. Si sono fatti anche un selfie, loro due sono stati appunto 20 minuti a parlare, non si sa di cosa, sinceramente in verità diciamo che Matteo Salvini è evidentemente, tristemente esponente di un filone di destra oscurantista, anti Europa, anti immigrazione, una destra davvero buia che rischia di portare l'Europa indietro di 50 anni e Donald Trump, che lo sappiamo è candidato alle primarie del partito repubblicano per presidenza degli Stati Uniti, anche lui non se la passa decisamente meglio da questo punto di vista, ovviamente la cultura politica è diversa perché è una cultura politica statunitense, non europea, però non è molto diversa, non è molto diverso il suo approccio su alcuni temi, in politica internazionale in particolare Donald Trump si sta distinguendo per riuscire a far preoccupare tutti per le sue sparate contro questo, contro quello, contro un approccio estremamente duro, estremamente rigido contro tutti e ieri i due si sono incontrati a Filadelfia, come abbiamo visto dalla fotografia. Andiamo avanti sulle notizie, un'altra notizia che riguarda l'Italia e che riguarda il mondo islamico è quella purtroppo della triste vicenda di Giulio Eugeni, lo studente è morto ormai quasi due mesi fa al Cairo, ucciso barbaramente, torturato e ucciso da parte di non si sa chi, ma insomma ormai direi che i sospetti sono sempre più forti che siano stati elementi della polizia, anche se in realtà forse nessuno di noi ha mai avuto grandi dubbi su chi potesse aver ucciso Giulio Eugeni. Gas e lacrimogeni su proteste contro il CC al Cairo, fermati 35 reporter, così Repubblica Esteri per le notizie di ieri, il sindacato dei giornalisti egiziani ha dato la notizia dell'arresto dei giornalisti che in diverse città coprivano le manifestazioni contro l'accessione di due isole all'Arabia Saudita, 25 sono stati rilasciati, tra i 10 ancora sottofermo anche 4 stranieri, Reuters e Normerino delle autorità egiziane. Reuters infatti la settimana scorsa aveva reso note delle indiscrezioni, confermate però da più voci, tutte provenienti dall'ambiente della polizia, del ministero dell'interno egiziano sul fatto che a uccidere Giulio, a torturare e uccidere Giulio fossero stati esponenti della polizia, in particolare l'arresto fosse stato fatto dalla polizia, quindi poi una volta è stato fatto l'arresto, evidentemente il resto sono purtroppo conseguenze. Fonti a Reuters fu arrestato da polizia nel giorno della scomparsa, questa appunto la notizia di qualche giorno fa che avrebbe dato via quest'ondata di arresti in Egitto, una situazione davvero drammatica e a confermare quanto la situazione sia drammatica questo video di una giornalista egiziana che ieri alla televisione del Cairo si è messa a insultare Giulio Regeni e la sua terribile vicenda che riguarda la vicino all'Italia, in un caso che rischia davvero di mandare in crisi i rapporti tra Egitto e Italia e di mandare anche in crisi lo stesso regime dittatoriale di Al-Sisi in Egitto. Vediamo questo video. Regeni un complotto che andasse al diavolo, così dice lei, non vedete i sottotitoli, riguardo la pubblicazione dell'agenzia News di Reuters tramite il suo ufficio al Cairo di false notizie attivanti al processo dell'omicidio del giovane italiano Regeni. La procura ha ordinato anche di accertare l'identità della persona che ha inviato il contenuto delle notizie di Reuters dal suo telefonino, così la giornalista appunto. Il maggior reda, capo investigativo della questura avvierà le indagini, questo sempre la giornalista ovviamente. Voglio dirvi una cosa, tutto questo interesse per il caso Regeni a livello internazionale come Bretagna e Stati Uniti, dice lei, tutto ciò indica una sola cosa, siamo davanti ad un complotto, il giudizio di questa, come se Regeni fosse il primo caso di omicidio in tutto il mondo, ma quanti sono i casi di omicidio di egiziani e quanti sono i casi di rapimenti o sparizioni in diversi paesi? Questo appunto, la giornalista ieri ha in una televisione egiziana, in un servizio che sta facendo discutere ovviamente l'opinione pubblica italiana per la gravità delle sue offese a una persona appunto che è deceduta. Chiudiamo questa pagina, pagina di Giulio Regeni, diciamo di politica internazionale, ieri però era, oggi però è l'anniversario, un anniversario importantissimo, sono 30 anni dalla notte del 26 aprile 1986 quando a 1 ai 23 minuti la centrale nucleare di Chernobyl nella loro Unione Sovietica andò in crisi e iniziò a emanare delle emissioni radioattive, per chi ha qualche anno in più degli altri, quella vicenda se la ricorda sicuramente. Vediamo questo servizio di Euronews che fa un po' la storia della vicenda e ci racconta appunto a cosa succede oggi per ricordare quella terribile vicenda. Era l'una e 23 minuti la notte del 26 aprile 1986, 30 anni fa. A Slavutic, una cittadina costruita per accogliere la popolazione evacuata da Pripyat, da cui dista meno di 60 chilometri in linea d'aria, le prime cerimonie di commemorazione della catastrofe nucleare di Chernobyl. Una cerimonia religiosa si è svolta ugualmente nella capitale ucraina, Kiev. Nelle due esplosioni avvenute a Chernobyl morirono due persone, altre 29 nei primi giorni dopo l'incidente. Non esiste un bilancio certo delle vittime, almeno 4 milioni di persone sono state esposte a livelli di radiazioni letali o sufficienti a causare patologie potenzialmente letali. Punto così la vicenda di Chernobyl. Chiudiamo questa puntata di 30 minuti 30 con una bella notizia, una notizia molto particolare, viene dagli Stati Uniti. È atterrato ieri a San Francisco un aereo davvero spettacolare, si chiama Solar Impulse, è il primo aereo al mondo che va avanti, che va per energia solare, che è azionato dall'energia solare. Lo vedete in questa fotografia, questo è il sito internet dell'azienda che lo produce, è partito dalle Hawaii nei giorni scorsi e dopo la traversata di tutto l'oceano Pacifico è appunto atterrato, lo vedete qua in queste bellissime foto mentre sorvola il Gonday Gate. Allora chiudiamo questo esperimento che però è alta tecnologia, in realtà più che un banale esperimento, è altissima tecnologia, tra l'altro la produzione è in gran parte svizzera, è un progetto svizzero anche se la commercializzazione è tutta americana. Vediamo in questo servizio appunto in questo video mentre sorvola, sono bellissime queste immagini e questo aereo è totalmente autonomo dal punto di vista energetico, non consuma un grammo di carburante, viene azionato soltanto dall'energia solare e però appunto è stato capace, il che non è poco ovviamente, di volare in totale autonomia da Hawaii a San Francisco, i piloti sono due, sono sistemati nella parte anteriore, insomma queste sono splendide immagini di quella che è una delle baie più belle del mondo che è appunto la baia di San Francisco dove svetta, lo vedete laggiù in fondo, dove lo vedete qua sotto, il Golden Gate, con queste belle immagini che ci faranno permettere anche un mondo dove riusciremo a essere un pochino più rispettosi della natura, delle risorse naturali che questa ci offre, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata, ci vediamo domattina.